Anche quest'anno la Guardia Costiera scende in campo per garantire la sicurezza lungo le coste. L'operazione Mare Sicuro 2023 partita a metà giugno terminerà il 17 settembre e le attività riguarderanno l'intero bacino della direzione marittima di Pescara, vale a dire l'Abruzzo e il Molise e le isole Tremiti. Naturalmente questo tipo di attività avrà all'inizio un target informativo, successivamente o progressivamente ci sarà un'attività ispettiva più puntuale. La nostra priorità è quella di controllare e di assicurare la salvaguardia della balneazione, che il servizio di salvataggio marittimo sia correttamente attuato. L'attività vedrà impiegati 50 tra uomini e donne sia a mare che lungo le coste con 15 unità navali e 13 mezzi a terra. Nei mesi di luglio-agosto nello spazio della rassegna stampa delle ore 7 su rete 8 ci saranno i collegamenti dalla Capitaneria di Porto che forniranno utili info sulla sicurezza, sulla cultura nautica e sulla corretta fruizione delle spiagge. Naturalmente oltre a questo tipo di attività ci sarà quella ispettiva sul controllo di tutte le attività che insistono sul demanio marittimo e a mare e naturalmente con particolare rilevo sia all'aspetto ambientale che è una delle linee di attività principali del corpo sia al controllo della filiera della pesca, dal produttore il pescatore al consumatore finale il ristorante. Grazie all'attività ispettiva della Guardia Costiera a tutela dell'ambiente nella scorsa stagione è stato possibile restituire alla fruizione dei cittadini circa 160.000 m2 di spiagge libere occupate illecitamente. Anche quest'anno i diportisti potranno contare sul bolino blu che eviterà duplicazioni nei controlli favorendo il principio di autotutela. Si ricorda anche il numero sempre attivo per le emergenze in mare il 1530.